Per il governo di Aruba è un honore di dare un merito al dottor Coco Arends, tanto per la sua contribuzione nel paese di Aruba, anche per l'area di medicina, anche per l'area di deporte, un co-fondatore di Aruba Anso Football Bond. Naturalmente, ma cerca di mio coraggio, la sua contribuzione nella politica di Aruba. Sono uno dei pionieri di Aruba, con l'antapara, con il pioniere del tempo per buscare una miglior posizione per Aruba nel reino holandese. Mi chiedere per i miei, in nome della famiglia, mi ringrazio per il grande honore di dare un rinno, per la mia tata come dottor, come politico, come deportista, come giungatore di dominio. E' un po' di tempo che abbiamo con la nostra stessa dedicata a un caio nella gemittosfera, con la famiglia e la natura presente qui, per comprare e la alegria con il dottor Coco, che è un caio importante e contento anche con la comissione, con la comissione, con la comissione, con la comissione, con la signora Franca, con la signora Figueroa. E' un po' di grazia per ogni volta scoprire il personaggio, con una contribuzione grande nel paese di Aruba. Grazie.